buongiorno raga e benvenuti ad un altro video vedete ci sta un sole che spacca a lussemburgo abbiamo avuto tre giorni pazzeschi e siamo nella mia seconda settimana in cui ho ridotto un pochino il volume di allenamento e anzi la frequenza di allenamento che faccio in palestra ho ridotto le sedute da 6 a 4 e ho aumentato invece le sedute di cardio e sto facendo due sedute di cardio sono alla quinta seduta ora e piano piano sto semplicemente macinando un po di miglia sulle gambe come mi hanno consigliato un paio di voi e un paio di amici corridore mi sto sentendo bene sono molto felice di aver fatto questo switch almeno per l'estate così trascorro meno tempo in palestra e più tempo qua fuori al sole e all'aperto oggi invece vi faccio vedere un full day of eating come non facevo da tanto tempo questo è il video arrivo allo studio tra cinque minuti e iniziamo sto full day of eating ma ci siamo svestiti uguali sempre no che stai combinato non vedi una nuova baby in the house che roba questo è un gimbal per tutti i nuovi sick shots che vedrete sui vari canali che bomba ragazzi stiamo investendo e rinvestendo sempre nel canale come abbiamo fatto dal day one aspetta non ho ancora fatto vedere sta scritta keep improving di qua il nostro kaizen logo di qua che ne dite? prende forma sto ufficio ma? ok ragazzi io inizio con i liquidi come sempre mi sveglio faccio un digiore intermittente lo faccio da un sacco di tempo non è per tutti io mi sveglio non ho fame ascolto il mio corpo quindi ci vado dei liquidi water e ho preparato il caffè inizio sempre più o meno così la mattina dopo di questo continuiamo ancora con i liquidi quindi vi faccio vedere comunque raga vi faccio vedere anche cosa ho preso qua guardate che ho combinato il telefono ho spaccato tutto dietro ho comprato una case da metterci dietro carina dai blu nel blu nostro di kaizen così nuovo nuovo ok sono le 12 e 30 abbiamo lavorato un pochino e adesso tra mezz'oretta andiamo in palestra quindi mi faccio un pasto pre workout non me lo faccio sempre a volte faccio e vado in palestra digiuno ma oggi ho un pochino di fame quindi ci prendiamo il nostro amato schier alla stracciatella e ci aggiungo due di queste albicocche spagnole buonissime schier che è mezzo coso che sono 200 grammi questo ha 2% grassi mamma mia raga stavo dicendo 2% grassi quindi in totale sono 4.4 grassi 20 grammi di proteine e 2 albicocche e io potrei mettere per fare tutta una cosa carina e farvi vedere che bello che esce ma non sono quel tipo di canale se volete col canale andate da ele che fa delle cose bellissime anche da vedere finisco qua e andiamo in palestra questa è proprio una giornata 15 no cos'è 16 giugno solitamente ogni anno saremmo stati a barcellona no che è il nostro nostro baby però state scorsa era molto diversa barcellona non ci è piaciuta per il covid ovviamente e quest'anno stiamo ancora a Lussemburgo per fare il lancio di Kaizen quindi finché non facciamo il lancio noi stiamo qua e raga vi stanno piacendo questi video un pochino più pro? i semi veramente ci stiamo mettendo tutto per fare dei video fighi dei video come vorremmo vedere noi e sappiamo benissimo che in Italia alla fine queste cose qua vanno meno bene andrebbero molto meglio se facciamo come non dico tutti ma come molti canali che tipo famo challenge famo cose soprattutto in questo periodo andrebbe bene ma noi facciamo i pesci fuori dall'acqua facciamo quelli che fanno le cose diversamente cazzo marchi Anthony raga sto in mezzo al mio allenamento ho fatto bicipiti tricipiti e romanian deadlift sto sudando in un modo assurdo ma sto allenamento sta andando una bomba ho provvedito in tutto che è la cosa importante e ci tenevo solo a documentarlo ma raga finito sto allenamento oggi è andata una bomba cavolo sarà che la palestra era vuota è molto più facile concentrarla e nonostante stessi filmato è andata veramente una bomba il semi non lo vedo dove sta dove sta eccolo il semi con lato di allenamento benissimo benissimo torniamo a casa facciamoci questo pasto post workout ok raga we are back at home faccio vedere il pasto post workout ecco qui la bomba che mi son fatto 130 grammi di pasta ci ho aggiunto un po' di quella mozzarella light galbani anzi sarò sincero ce l'ho aggiunta tutta pomodorini e una scatoletta di tondo che il tono è buonissimo sott'olio e penso che ci aggiungerò ancora un pochino di olio la cosa più importante essenziale post workout è consumare le proteine 20 30 grammi di proteine prima possibile dopo il workout va bene anche fino a due ore dopo il workout va ancora bene ma il prima possibile se ci riesci è la cosa migliore i carboidrati non sono essenziali anche perché in realtà il livello di glicogeno nei muscoli post allenamento scende ma nemmeno di così tanto magari di un 10 15 per cento quindi proteine in assoluto carboidrati io comunque mi piace come passo post workout prendere gran parte delle mie calorie gran parte dei carboidrati semplicemente perché noto una migliore digestione quindi lo faccio per quel motivo via ecco il pasto una bomba can't wait to the game Ok raga è giunta l'ora di farsi il shake pomeridiano post workout ho mangiato ho digerito ora o poi a di qualcosa di un po più proteico e fresco e questo è il momento in cui uso anche le proteine in polvere di food spring che sono al gusto vaniglia preferisco vuole vaniglia oppure quello al cocco come sempre su qualsiasi acquisto su food spring potete usare il codice muscoli la vita FSG mi supportate a me personalmente e avete almeno il 15 per cento di sconto sul vostro ordine ci andiamo a raggiungere qualche di questa framboa che sono i tamponi le proteine come vi ho detto potete aggiungere 20 grammi 30 grammi 40 grammi come vi pare e poi ci aggiungo anche un pochino di questo skir che aiuta un sacco con la consistenza buona e proprio solamente un goccio goccio goccino di acqua per rendere il tutto mescolabile facciamo un po' un consistency test beh mi sembra bello perfetto e bello tenso che è proprio come mi piace a me proviamo un po' mi consiglio di usare qualsiasi frutto che mi piace di più i tamponi le fragole surgelate vanno benissimo se preferite non usare le cose surgelate basta che allora potete mettere pezzi di frutta fresca e ci aggiungete dei cubetti di ghiaccio state solo attenti a non aggiungere troppa acqua che se no diventa troppo liquido invece aggiungetene poca così la consistenza è proprio questa bomba qua ok dai allora per cena ragazzi vanno a farmi questo qua che è macinato magro al 5% vi consiglio veramente se voi volete stare attenti alle calorie di scegliere dei tagli magri questo al 5% solitamente il macinato è tipo 15-20% quindi fate attenzione e scegliete quello diciamo il più magro possibile è anche secondo me più buono chiaramente è meno grasso però ci sta se non è uno si abitua ci andrò a fare un pochino di insalata ovviamente poi siamo andati a comprare questo cheddar cheese inoltre ci taglio anche un avocado e ultimissima cosa che mi serve sono queste barchette così che andiamo a fare proprio quello che vedete qua sopra una sorta di burrito e ok allora mentre la carne si sta cucinando basso un attimo così non crea troppa interferenza comunque andiamo a fare un attimo la conta delle calorie allora vado nella app io uso my net diary andiamo a pensare a schier stracciatella oggi abbiamo fatto 200 grammi più 100 grammi nello shake dopo quindi vado già a raggiungere 300 grammi poi ci vado ad aggiungere due albicocche che ho mangiato passo post workout tonno la pasta la galbani zero i pomodorini non li traccio quindi perfetto andiamo ad aggiungere l'olio che ho aggiunto vado a occhio 10 millilitri e più ci aggiungiamo le way di food spring più quelle frozen raspberries e questo ci porta per ora i miei numeri di oggi sono 1370 calorie 150 grammi di carbo 113 grammi di pro e 40 grammi di grassi e ancora da fare tutta la cena e praticamente se io sto intorno al mantenimento so che appunto ho ancora almeno mille un pochino più di mille calorie per rientrare con la cena quindi molto probabilmente posso fare almeno due di questi piccoli burrito qua e in questo periodo la sto vivendo così rega molto più tranquillo in questo momento per me mi interessa più sentirmi bene sentirmi in forse sentirmi pieno di energie rispetto a stare più shredded e quella diciamo una cosa che viene col tempo ognuno di noi viene con l'individuo quindi ognuno di noi deve decidere cosa vuole per sé non c'è un modo solo di fare fitness non è che c'è un modo per farlo e tutti devono seguire la stessa cosa ognuno di noi deve capire cosa vuole eseguire cosa vuole inseguire quali obiettivi corsi in quali momenti e questo è come la storia andò io questo è sarebbe il processo abbiamo il nostro pocket riscaldato ci mettiamo un po di cheddar che bomba ci mettiamo un po di carne macinata un po di verdure e un po di micro e come avete visto oggi pure non ho cucinato nessuna verdura sono uno che mangia la verdura cruda molto spesso che sia carote o altro ci vado ad aggiungere dopo l'avocado ma stanno già arrivando degli ospiti quindi la taglio corta qua mi dispiace un sacco però avete capito più o meno il passo che sto facendo se volete farlo anche voi a casa facilissimo prendete gli ingredienti sfusi che volete fate una fonte proteica come questo macinato magro anche se avete appunto altra gente in casa può uscire qualcosa di carino mi spiace un sacco gli ospiti stanno venendo non mi va di filmare quando arrivano quindi e allora con il logo di kaizen dietro le mie spalle io finisco il video qua mi sto ancora veramente abituando a questo studio ma mi piace tantissimo come l'abbiamo sistemato e raga per me rende le cose concrete rende tutto il lavoro degli ultimi anni concreto e è letteralmente sono stra felice di aver fatto questo passo era da tanto che ce l'avevo in testa che non avevo ancora fatto il leap avevo un po di paura diciamo perché ora ho qualcosa da perdere e però secondo me è necessario sia per andare avanti che anche per avere un po di pace mentale era qualcosa che volevo veramente ed è tutto tutto grazie a voi se ti è piaciuto questo video lasciaci un like iscriviti al canale qualsiasi commento o domanda sulla dieta lasciami qua sotto io ti ringrazio di cuore ci vediamo nel prossimo video keep improving ciao